Segui La7 anche su Instagram, La7 ovunque con te. Nessuno dei grandi paesi occidentali e democratici aveva mandato un suo rappresentante. Questo per dei funerali di Stato. Per dei funerali di Stato. I capi di Stato vanno ai funerali di capi di Stato. Allora, Lemiro del Catare è venuto per amicizia e questo comunque stava seduto accanto a Mattarella. Era una cosa un po' strana che non ci fosse nessun leader internazionale. Ma a parte questo, Massimo Franco era strana ed era eloquente della considerazione anche personale e umana che forse si è generata a parte Putin con gli altri leader. L'omelia di Monsignor Delpini sembra aver assolto Berlusconi da tutti i peccati di cui Peter Gomez ha appena parlato. Era un uomo, era un uomo d'affari, era un uomo a cui piaceva fare festa, essere spiritoso, raccontare barzellette. Un uomo d'affari deve fare affari, non importa il criterio, quello che importa sono i risultati. Ha detto quasi letteralmente Delpini. Due giorni dopo c'è stato il funerale di Flavia Prodi, la professoressa Prodi per più di 50 anni sposata con Romano Prodi e il cardinale Matteo Zuppi ha fatto in chiesa a Bologna un'omelia di tutt'altro segno. Non conta vincere, conta rammendare quello che si è rotto, conta avere pazienza, conta stare dalla parte degli ultimi. Glielo chiedo perché in questa stessa settimana abbiamo avuto come uno spettacolo quasi simultaneo di due idee di Italia. Tanto la professoressa Flavia Franzoni perché lei rifiutava di essere considerata la moglie di Prodi. Su questo era molto attenta, aveva una personalità molto forte, inversamente proporzionale al suo presenzialismo. Era una donna particolare.